Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora attivo sul Mediterraneo orientale un centro di bassa pressione che in qualche modo si fa sentire ancora su Italia con un po' di correnti fredde da nord-est. Se controlliamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, vediamo infatti che ancora il medio adriatico e parte delle regioni meridionali vedono arrivare qualche nuvolamento, comunque alternato, anche schiarite sempre più ampie e decise. Precipitazioni, qualche fiocchetto di neve ancora potrà cadere, in particolare questa notte nell'Italia centrale, specie nelle zone interne e poi qualche residuo piovasco sarà ancora possibile domani su parte del sud, in particolare in Sicilia. Quindi in definitiva è vero che si va verso un miglioramento del tempo, però ancora diciamo qualche fiocco di neve cadrà in nottata tra Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio e poi un minimo di variabilità, sarà ancora presente sul medio adriatico e all'estremo sud, ma alternato a schiarite anche decise. Attenzione al vento perché al centro-sud soffrerà ancora sostenuto, si calmerà a partire da giovedì. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo.